E' in partenza all'agraria degli esordienti, secondo anno qui a Critarola di Porto San Terpidio. Siamo al primo giro, vediamo in fondo alla salita che porta all'arrivo il gruppo compatto che prende tutta la sede stradale, percorso ondulato e molto difficile. Vediamo nelle posizioni di testa e portacolori dell'arma Juventus-Fano. Stiamo aspettando l'arrivo nuovo del gruppo per un altro giro, vediamo il gruppo assottigliato e allungato c'è un attacco di Ronchetti della Free Photobike a cui ha risposto radice dell'arma Juventus-Fano. Vediamo chi l'attacco ha fatto i suoi effetti, vediamo Eugenio che probabilmente si sta fermando. Mentre sta arrivando Michael. E siamo ad un nuovo giro, vediamo che il gruppo si è frazionato ulteriormente dal gruppo sono usciti una decina di corritori tra cui Ruocchetti, Radiccio e Azzolini. Stiamo vedendo gli effetti dell'attacco dei nove concorrenti al comando, vedete il gruppo che si è diviso in tanti piccoli gruppi, concorrenti solitari o coppie, ancora dei concorrenti in ritardo, ne vediamo altri in fondo, con un ritardo abbastanza importante, abbiamo sentito anche più una caduta, ancora concorrenti in ritardo, segno di un attacco e vediamo Michele in questo gruppo, rimasto attardato, ancora altri concorrenti, stanno transitando dietro con la macchina del fine corsa, e vediamo Michele, stiamo attendendo il gruppo dei nove in testa alla corsa, vediamo Raffaele, stanno andando via in sintonia, e hanno preso un bel marcene sul resto, per la corsa, vai Michele, tieni duro, andiamo in fine corsa, e Michele, in fondo il gruppo dei ragazzi in fuga, ancora tutti insieme, ancora un passaggio, andiamo a Nurd, si prepara a spessare l'acqua, questo caldo soffocante, stiamo attendendo a quelli che stanno arrivando, e vediamo Raffaele in fondo, stiamo attendendo ancora per un nuovo passaggio il gruppo di testa, mentre vediamo un gruppo che sta per essere doppiato, infatti dietro ci sono i nove ragazzi in fuga, stiamo attendendo, ed ecco che sta partendo Rocchetti, Rocchetti è partito, prova la fuga Rocchetti della Free Photobire. Ancora un giro con, vediamo che sta arrivando Rocchetti che ha preso un buon margine sul resto del gruppo, sentiamo 45 secondi, bell'attacco di Rocchetti che ha continuato nel suo tentativo di fuga, lasciando tra sé i suoi inseguitori, al momento 45 secondi. stanno arrivando ora gli altri, i superstiti del gruppo inseguitore, li vediamo, li contiamo e sono rimasti in sei, che sono Radici dell'Alma Ivetto Sfano, Montenero del Foligno, Giuliani della ciclistica Recanati, Settini del Bovara e Berti della Pesarese. e siamo all'ultimo giro, vediamo Rocchetti che ormai va sicuramente a vincere questa edizione, mentre stiamo aspettando gli altri sei che stanno arrivando ora. Dorsale numero 26, eccolo qua, Filippo Rocchetti, free photobike team, vero dominatore di questo memoria, Roberto Moretti, Filippo Rocchetti ha vinto la gara degli esordienti del secondo anno, un grande applauso per questo vero e proprio dominatore di questa gara, ora inizeremo allo sprint ovviamente per le piazze d'onore. Stiamo aspettando l'arrivo del gruppo dei sei seguitori di Rocchetti che stanno arrivando ora, vediamo la volata, la volata. E vediamo Raffaele, Raffaele in testa, Raffaele, è Raffaele secondo, Radice Raffaele secondo. E vediamo il rallenti della volata del gruppo vinta da Radice Raffaele dell'Alma Juventus Fano secondo, terzo Silenzi Marco del pedale rosso-blu, quarto Montenero Gianluca del Lucifoligno, quinto Giuliani Giacomo della ciclistica Re Canati, sesto Settimi Mattia della Bovara Team, Settimo Berti Manuel della Pesarese.